Buongiorno, a voi l'acqua, fuoco arde, si sono la GoPro, ciao Domenico, è stata l'ascesa Oh, cambiare la maglietta, no? Poi che dito con lo taino si suda Lei, Paolo, cosa fa? Io sono qui così, il formaggiere? Se è possibile agli amici, menando la polenta Invece Domenico cosa fa? Qual è il suo ruolo? Io aspetto che riposi lui per girare la polenta Lui la mena ma io la tengo girata Bravi, bravi, complimenti Due coldere, una, una due Due, è vero Poi ne andrà forse una e qualcosina Però è meglio bollare Un'altra cosa Lui la domanda Ima Ima Ima